Come e quanto lo strumento dell'autonomia della regione Friuli-Venezia-Giulia può influire sulle scelte in tema di lavoro e appalti? Abbastanza, dice il candidato alla presidenza della regione, poi la coalizione di centro-sinistra Massimo Moretuzzo. Ma questi margini operativi, a sua detta, non sono stati sfruttati in questi cinque anni. Nonostante proprio da parte del gruppo del patto per l'autonomia e in consiglio regionale, siano state avanzate proposte in tal senso. Moretuzzo, da consigliere regionale fra il 2018 e il 2019, aveva proposto una norma che ricalcava quella utilizzata nelle province autonome di Trento e Bolzano per dare un vantaggio alle aziende del territorio in tema di appalti pubblici. Noi dobbiamo utilizzare uno strumento formidabile che abbiamo a disposizione, che è lo statuto di autonomia. La specialità regionale può essere quello strumento che ci permette di fare, prima e meglio dello Stato, le cose che servono. Sul tema degli appalti questa possibilità c'è. In questi anni non è stata utilizzata dall'amministrazione Fedriga, noi invece crediamo che sia indispensabile per garantire salari dignitosi alle persone coinvolte nei lavori pubblici, per riuscire a dare uno strumento anche alle amministrazioni locali e ai comuni in particolare per fare meglio le cose. Ad esempio rispetto al tema dei lavori pubblici, oltre 700 milioni di euro fermi nei cassetti dei nostri municipi perché non solo mancano persone, tecnici comunali, ragionieri, ma anche perché il codice degli appalti è qualcosa di difficilmente gestibile. Noi abbiamo proposto, appunto come gruppo consigliare del patto per l'autonomia in questa legislatura, di fare una norma regionale che permetta di fare meglio le cose. Non è stata raccolta, però nella prossima legislatura, quando saremo al governo della regione, vogliamo assolutamente metterla come una delle priorità per riuscire a far andare avanti i lavori. Entrando nel dettaglio di una situazione molto attuale, la lista Adesso Trieste ha presentato una mozione che sollecita sindaco e giunta a farsi parte attiva verso gli uffici competenti, sindacati e il Parlamento per dare dignità salariale, ovvero una soglia minima di 10 euro l'or di l'ora, ma anche contrattuale nei confronti di questi lavoratori.